L'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi tutela i diritti ed agisce per l'inclusione sociale delle persone con disabilità auditiva in ogni ambito della vita quotidiana, con particolare attenzione alla prevenzione e alla promozione della salute, al benessere emotivo, fisico e mentale. In questo ambito, i sordi sono spesso relegate ai margini perché non hanno una completa accessibilità alle informazioni in merito alla salute, alla sanità e all'alimentazione. Inoltre, le istituzioni sanitarie non sono preparate ad interagire con la persona sorda, non ne conoscono le esigenze e le modalità comunicative, nei centri di pronto soccorso e nelle strutture in generale. Obiettivo del progetto è pertanto mettere in campo una serie di azioni di formazione e rivolte sia alle stesse persone sorde, sia al personale sanitario di diversi ospedali su tutto il territorio nazionale e fornire notizie sul benessere fisico, mentale e sull'alimentazione per garantire una completa informazione. Il progetto si chiama Come ti senti? Campagna inclusiva di prevenzione e supporto alla salute per le persone sorde. Le attività svolte dagli enti del Terzo Settore sopra descritte sono state adottate dall'Assemblea Generale dell'ONU il 25 settembre 2015. L'Agenda individua 17 obiettivi di sviluppo sostenibile nel progetto Trasformare il nostro mondo, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, finalizzato all'implementazione delle relazioni di comunità con le quali è possibile scambiarsi esperienze per migliorare il mondo. Il progetto mette in atto un ventaglio di azioni per agevolare da un lato le persone sorde, adulti e ragazzi nell'accedere alle informazioni in tema di salute, alimentazione, benessere. Dall'altro, fornire al personale sanitario e parasanitario elementi per riconoscere il paziente sordo, le specifiche esigenze della disabilità, le peculiarità della comunicazione. Il primo obiettivo verrà perseguito mediante l'organizzazione di seminari informativi, che per motivi rispondenti all'emergenza sanitaria in atto verranno realizzati online. Il secondo verrà messo in atto con l'organizzazione di corsi di sensibilizzazione sulla sordità e la persona sorda, rivolti a ospedali e strutture sanitarie. Il gruppo di lavoro fa capo alla sede centrale ENS e si avvale del supporto di una rete di professionalità di enti pubblici e privati, nonché di ricerche universitari, al fine di rendere più ampio ed efficace l'impatto sociale e la visibilità del progetto in tutte le sedi opportune. La durata del progetto è di 18 mesi, avviato in data 6 luglio 2020. Per ulteriori aggiornamenti potete visitare il sito. Grazie dell'attenzione.